ma sospendono la gara no? onde comunque alte onde alte alte al vento molto vento anche qua dove siamo noi non funziona nulla? no non funziona nulla qualche ritiro? il timore è che non si possa concludere la gara guardate guardate secondo me sospendono la gara ci sono no? o la corsa no? non so se fanno come in formula 1 se abbrevino io lo vedo un attimo il campo di gara ciao Giorgio ciao 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 Ducasacchi con Tommaso Meccarozzi forse, andiamo, ci avviciniamo, onde sempre più alto, è la prima volta che ce la facciamo sul campo di gara, raggiunge il finale, sono mica convinto che la gara venga terminata, quindi forse arrivano tutti, da dove arrivano che faccio solo adesso, di là no, immagino da sinistra, perché vedo che c'è anche un bagnante, ah già sì, mi hanno spiegato che oggi era particolarmente in là, il campo di gara, ma la sospendo, ma d'anno attribuiscono il titolo, quanti chilometri saranno? 40 e magica.